Sto te insegnate a gente che non aveva mai fatto un gol, è uno, due, tre Beh, è la fine del calcio Sembramente scarci Perché? Sarebbe stato troppo Avresti dato troppo 6 gol magari nella partita sola a Closier E poi mai più Subito capocannoniere Chi è il capocannoniere? Votrugno, con quanti? Ma tanto della simpatia Lui non sa Una partita ne abbiamo usato Votugno non sa che alla fine verrà segnata simpatia.